Ecco, padre Livio non usa mezzi termini dicendo che è la potenza di tenebra che avvolge il mondo e che attira le anime con la sua falsa luce e Satana sciolto dalle catene che vuole mettersi al posto di Dio. Io oggi carissimi amici, sia con voi in studio, con voi a casa, voglio rendervi noto questo avvenimento sconvolgente, questo fatto sconvolgente che il Papa Leone XIII ebbe il 13 ottobre del 1884. La mia vocazione è avvenuta proprio il 7 ottobre del 1984. Questo che vi racconto adesso, che è accaduto al Leone XIII e che spiega anche la presenza di San Michele qui con noi, questa statua di San Michele, è una cosa impressionante. È un fatto sconvolgente che avvenne il 13 ottobre del 1884, 13 ottobre è il giorno delle apparizioni della Madonna di Fatima. Fatto sconvolgente che avvenne durante la celebrazione della Santa Messa. Il Papa Leone XIII udì una sorta di dialogo soprannaturale che delineava le sorti della Chiesa nel corso dei cent'anni da lì a venire. Proprio fino al 1984, quando io per la prima volta sentì la chiamata chiarissima di Gesù Cristo che mi voleva tutto suo. Fino a poche ore prima, fino a un minuto prima, fino a un secondo prima io pensavo di sposarmi. Invece la sera che il Papa è andato via, il 7 ottobre del 1984, ho sentito questa chiamata e il mio cuore si è riempito di gioia, di stupore. E proprio cento anni dopo di questa visione che ha avuto Papa Leone XIII, un dialogo soprannaturale che delineava le sorti della Chiesa nel corso dei cent'anni da venire. Prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, l'ira di Dio c'è stata. Ecco il dialogo, una voce gutturale, quella del demonio, vicino al tabernacolo, diceva a Gesù «Potrei distruggere la tua Chiesa». La voce invece gentile di nostro Signore disse «Sì, allora fallo, procedi, fallo, vediamo se tu riesci a distruggere la Chiesa». «Satana disse, per farlo avrei bisogno di più tempo e di più potere». Nostro Signore risponde con voce dolce «Quanto tempo e quanto potere vuoi?». «Satana, da 75 a 100 anni, è un grande potere a tutti coloro che saranno al mio servizio». Nostro Signore glielo accordò «Avrai il tempo e avrai questo potere, fai con loro ciò che vuoi». Ecco perché padre Livio dice «La potenza della tenebra che avvolge il mondo e che attira le anime con la sua falsa luce è Satana sciolto dalle catene». E' Dio che lo ha sciolto dalle catene proprio per metterci tutti alla prova, carissimi amici. E sapete tra i miei amici come sta ballando il demonio, ma se ne deve andare perché ha perso, non trionferà mai perché ormai è sconfitto. Avrai il tempo e avrai questo potere, fai con loro ciò che vuoi. Questo fu lo sgomento e l'impressione che Papa Leone XIII si affrettò a redigere una preghiera rivolta proprio a San Michele, Arcangelo, per la protezione dell'intera Chiesa. Gesù, nella sua misericordia, aveva voluto chiaramente avvisarci. Poi il Papa volle che questa potente preghiera venisse sempre recitata al termine di ogni Santa Messa. Purtroppo tale essenziale disposizione venne disattesa con l'avvento delle riforme liturgiche degli anni Sessanta che la soppressero proprio con il Concilio Vaticano II. Non c'è l'usanza, ecco, io la recito e spero di recitarla anche a nome vostro, questa preghiera a San Michele. Non per modo di dire, ma veramente dobbiamo pregare. La Madonna da 27 anni, 29, dice continuamente pregate, pregate, pregate. Questa è la forza, la preghiera. A Dio Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, alla Madonna, ai Santi. Ecco, questa è San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo. Difendici nella battaglia contro la malvagità e le insidie del diavolo. Sii nostro aiuto. Ti preghiamo supplicandoti. Ecco, come l'immagine bellissima di San Francesco di Paola che dobbiamo imprimere nel nostro cuore. Questo atteggiamento da pezzenti, da mendicanti, specialmente non fisicamente anche, ma specialmente col cuore quando ci disponiamo alla preghiera. Ti preghiamo supplici che il Signore lo comandi, come gli ha dato la libertà di fare quello che sta facendo. E tu, principe delle milizie celesti, con la potenza che ti viene da Dio, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo a perdizione delle anime. Ecco, la Madonna, a Fatima, ai bambini, ai tre pastorelli, insegno la preghiera che recitiamo al rosario. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.